Rieccoci insieme, siamo sempre con Maurizio Chiovatto, documentarista, siamo a Comodo, queste isole dove abbiamo visto questo splendido animale che è il varano di Comodo, però non solo varani ma anche immersioni. Quanto dista, avete raggiunto questa zona come con l'aereo? Allora sempre con volo aereo perché purtroppo essendoci tutte isole una staccata dall'altra partiamo sempre Venezia, se facciamo con Emirate andiamo a Dubai, da Dubai Jakarta, Jakarta Bali e Bali Lombok che è l'aeroporto più vicino a Comodo. Poi un'altra cosa, sono eterotermi i varani per cui devono stare al sole e di notte vanno praticamente in delle grotte, in delle tane che il terreno non gli faccia disperdere il calore che hanno accumulato durante il giorno. Questa è la tana dove depongono le uova, eccole qua, dove poi si mette la mamma ad aspettare i piccoli per festeggiarli. Qui invece vediamo i pescatori, il sistema per avere il pesce sono due sistemi di conservazione, o lo metti sotto sale come in questo caso qui che adesso proprio lo puliscono tutto, lo battono il sale per renderlo più piccolo, di granulo e vengono salati e messi in un contenitore oppure viene essiccato. Questi sono i due sistemi per avere praticamente, perché poi quando è brutto tempo logicamente non vanno fuori a pescare e loro vivono praticamente di quel poco che riescono a fare come agricoltura e lo stesso sono qui con i pesci essiccati oppure sotto sale. Attenzione che mangiano qualsiasi cosa che si muova. Qui è un villaggio che sono andati a visitare. Anche gli abitanti mangiano qualsiasi cosa che si muove. E quello che abbiamo visto qui di incredibile, adesso vedremo anche il sistema di essiccazione del pesce, eccolo qua dove viene messo aperto, pulito e viene essiccato, questo logicamente quando non piove perché sennò vai a rischio che si deteriori. Queste sono le oloturie, i cetrioli di mare che loro hanno un grande mercato con Hong Kong. A Hong Kong chiedono queste cose qui, vanno matti per questa roba qui. A me rigetta proprio l'odore, ma pensare che mangiano questa roba qui è incredibile, perché poi l'oloturia ha una pelle coriacea come fosse cuoio. Questa è una manta in superficie, in fianco alla barca, perché essendoci moltissimo planton abbiamo questo grande passaggio di mante, di squali balena, che questa volta non li avevamo visti, ma però di mante, mante tante, ne abbiamo trovate tante. Queste qua sono tutte le isole vicine a Komodo. Sono bellissime come a verde, come in casa. E qui siamo in barca, briefing prima dell'immersione di Ruol. Qui siamo andati in una parete con tutte le gorgonie gialle sarebbe. E l'abbiamo vista. E qui siamo pronti a partire. Quindi eravate un gruppettino. Eravamo in quattro in questo caso qui. Adesso qui faccio un grande saluto e un grande augurio a Checco, che era lì con noi, che sta lottando col Covid e speriamo che lo passi. Comunque, momento di tristezza e avanti tutta. Quindi, eccomi qua pronto. Adesso siamo qui, andiamo sotto e andiamo a vedere quello che troveremo. Maurizio parte. L'acqua bella calda. L'acqua calda, tipo Maldiviana, sui 30 gradi, proprio si sta benissimo, non c'è nessun problema, veramente. Qui bisogna stare attenti alle correnti comunque, perché abbiamo l'incrocio dei due oceani. Abbiamo, ah qui, dopo vi racconto delle correnti. Questo qui è un granchietto, cosiddetto muratore, perché lui fa la tana nella sabbia e abbiamo, in questa tana vive lui e il pesce che c'è sopra di lui. Il pesce in questo momento sta facendo la guardia e lui sta rintuzzando praticamente con delle conchiglie, cerca di sostenere la sabbia e fa questi buchi e li tiene puliti perché poi sposta la sabbia e vedremo anche come lo porta fuori. Ha chiamato muratore proprio per quello perché costruisce questa tana in un terreno che assolutamente non può reggere. Lui prosegue a buttare fuori la sabbia e a rintuzzarla e a tenerla praticamente in caso di pericolo sia il pesce, sia lui che il pesce entrano dentro. Per fare questa ripresa ci ho messo tranquillamente un 20 minuti, il che vuol dire quando sei in questi posti qua. 20 minuti? Che il gruppo va avanti e ti trovi da solo. Comunque va sempre bene. Eh beh insomma, sappiamo che dalle tue racconti che non sempre va bene. Non sempre va bene. Questa è una rino murena che è molto bella, l'abbiamo con varie colorazioni, innocua completamente. Questo qui è Checco che appunto si sta mettendo con le mani, sta facendo vedere come stando fermi, questi piccoli gamberetti appartengono a gamberetti pulitori, andrebbero a cercare, ma in questo caso non ci sono parassiti da mangiare, sono i punti diciamo in cui vanno i pesci, tutti i pesci a farsi togliere i parassiti. Abbiamo sia i pescetti pulitori che anche i gamberetti e via di seguito. E come uno sta fermo e li pone, vengono a vedere se riesce a qualcosa. Ma sono macro queste? Sì, sì, queste sono macro. Questo è un pesce volante che è difficile da vedere, l'abbiamo visto di notte in questo caso qui. Perché di solito i pesci volanti che li troviamo durante la mattina, vengono in barca, li troviamo tranquillamente perché saltando fuori dall'acqua ogni tanto saltano su anche in barca, sono completamente diversi. Ah, sono quelli che saltano? Sono quelli che saltano. Questo qui non l'avevo mai visto come pesce volante. questa murena è da farci attenta perché ho avuto un attacco non qui in Indonesia, ma forse qui in Indonesia, in un'altra località. Questa qui non è che molto, diciamo, tranquilla. Lì ho fatto la ripresa finché lei stava mangiando un pesce, si è sentita disturbata e mi ha inseguito, mi ha fatto capire che doveva allontanarmi. Questo è un verme piatto, assomiglia molto alla ballerina spagnola. Però assolutamente, parliamo di pesci innocui completamente, non c'è nessun problema. Però ha dei colori bellissimi. Sì, tanto è vero che adesso qui lui scende e si appoggia nelle mani della Patrizia e la vediamo un attimo. Eccolo qua. Ma vi spiegano prima che comunque ci sono pesci innocui. Sì, 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 eccolo qua. Ah, piccolissimo, sembrava fosse grande. Si è appoggiato lui proprio nel dito così. Ecco, adesso riparte. Ma è sempre lo stesso, ha cambiato colore? No, è un altro, è un altro, un po' più piccolo questo qui e dopo va a terra. Eccolo qua. Questo qui l'ho ripreso. E guarda che spettacolo. Ricordiamoci che abbiamo i nudi branchi. L'Indonesia è il punto più importante, diciamo, per la macrofotografia al mondo. Cioè perché proprio c'è di tutto, di più, dei piccoli organismi ed è coloratissimi. I colori in natura lanciano un messaggio. Sono velenosi, ossia se il pesce inghiotte un nudi branco lo risputa subito perché si accorge che è tossico. Quindi in natura i colori hanno molto... Comunque per fare queste immagini, perché sono veramente molto belle, colori molto intensi, si usa una luce, un faro? Il faro, sì, 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 sì. Ho due fari, fortunatamente che funzionano bene perché i fari sono sempre un problema. Questo è un frogfish, un pesce rana che sta immobile dove lui prende i colori della zona dove lui fa tutta la vita questo sasso, lui rimane lì, si fa fatica a distinguere, si vede l'occhio e si vede la bocca. Adesso lo riprenderò da davanti e capiremo meglio com'è questo pesce. Lui è pronto a inghiottire il pescetto che gli passa davanti. Non è assolutamente... eccolo qua, qui lo vediamo davanti, vediamo quindi la bocca, vediamo gli occhi. Sì, proprio è... si confonde perfettamente, e questo è abbastanza grande, sarà un 20 centimetri, non è piccolo. Ecco, ad esempio qui vediamo un'altra, la razza, che lei si prepara, il suo punto, si nasconde sotto la sabbia, restano fuori solo gli occhi, ecco di qua, e lei è pronta ad attaccare a quello che gli passa davanti. Questo è un altro pesce, uno scarpenide, che è sempre, che è la famiglia degli scarpenidi, intendo, cammina, questo pesce cammina, non nuota assolutamente, ma è una cosa incredibile, il mimetismo che ha. Ma anche riuscire a vederli perché non sono... Beh, qui è molto importante avere la guida locale che te li indichi. Questi grandini li potremmo vedere anche noi, perché quando vedi qualcosa che si muove nel fondo lo segue. Questi sono i serpenti. Che sono pericolosi questi. Il serpente è molto velenoso, questi marini sono veramente molto velenosi. Di fortuna da parte nostra è che non hanno la mandibola snodata e il dente che inietta il veleno è arretrato rispetto al palato. Sì, vabbè, però girano così. Però, sì, diciamo, sappiamo che sono molto velenosi, però hanno la bocca piccola e non hanno la mandibola snodata. E attaccano quando? No, direi, loro mangiano piccoli pesci. Abbiamo guardato, questo qui ad esempio è bellissimo, questo qui, questo serpente qui. Fa una certa impressione. La prima volta che lo vedevo, devo dire la verità, mi tenevo ben lontano. Poi ho capito che non sono assolutamente pericolosi per noi, perché potrebbero morderti il lobo delle orecchie, ecco, ma non riuscirebbero a mordere di più. A quel punto lì per proteggerti ti tiri sul cappuccio e sei a posto. Perché già il mignolo di una mano non riescono a metterlo in bocca ad arrivare fino al dente velenoso. Questa è un'orecchia d'elefante che è sempre un animale, non è una pianta. Quindi abbiamo tante. Attenzione a queste stelle marine. Queste stelle marine qua sono bellissime, guardatele da lontano, perché hanno degli aculei sottilissimi che fanno veramente male. Proprio uno non vede l'aculeo e si lo pianta. Ah, perché poi sono così belle, uno pensa che siano di velluto. Sono veramente, queste qui sono veramente a starci molto lontani. Hanno degli aculei sottilissimi e quindi anche difficili poi da togliere l'aculeo quando ti è entrato dentro, perché veramente non riesci a vederlo e fanno proprio male questi qua. Questa è l'oloturia della famiglia delle oloturie che abbiamo visto prima al villaggio che le cucinavano. Fortunati loro che le mangiano, li riusciamo a mangiare. Infatti non immagino che non sia un piatto prelibato. Ma però hanno questo mercato con Hong Kong, ci hanno detto. Magari chissà preparati in un certo modo, può darsi che siano anche... Ma non bisogna avere questione. Qui non mi sentirei proprio di assaggiarle, veramente. Voi cosa mangiavate? Pesce che pescavano? Pesce, sì, pescato anche. Ma però molte volte la crociera parte... Qui vediamo un attimo il volitans, l'ho anche rallentato, guardate la velocità con cui inghiotta un pescetto. Eccolo, tra un attimo vediamo il copacolo. Eccolo! E' già inghiottito il pescetto che mi è passato davanti. Quindi... E' bellissimo come colori questo, veramente. Sì, lui è fermo lì. Questo invece è un altro, è un granchio. Questo granchio qui vive tutta la vita che si stacca le spugne da dove sono nella terraferma e se le mette sopra il corpo. E si mimetizza completamente. Guardate che quando è fermo, questo qui non lo vedete neanche a morire. Cioè, bisogna che uno lo indichi e allora lo si vede. Perché guardate come si mimetizza. E lui si crea il mimetismo portandosi praticamente tutte queste spugne attaccandosele sul suo guscio. Ecco, e qui siamo col pesce balestra. Il pesce balestra è un pesce che attacca, soprattutto quando fa il nido. E qua cosa stava facendo? Qui sta rompendo praticamente la conchiglia. Facilmente inizia la costruzione del nido. Molto probabilmente inizia. Ma comunque era ancora tranquillo. Questo pesce da starci attento perché è morto. Poi, fra parentesi, questo pesce qua, anche gli indonesiani, se lo pescano, lo ributtano in acqua. Perché è tossico. Cioè, non è velenoso. Ha la carne tossica comunque. Ti fa venire un mal di pancia per dire. Ecco, quindi proprio... Pensavo invece che fosse come... No, no, no. Questo qui è sempre il cetriolo di mare che lui sta mangiando. Ah, se lo mangia. Sì, se lo mangia proprio. Ricordiamoci che la pelle è come fosse cuoio. È durissima e lui proprio la rompe senza nessun problema. Per cui, se morde, fa male questo qui. È ai denti proprio. Ai denti. Proprio rompe il corallo. Veramente a tanto. E questo qui è sempre un balestra. Balestra Picasso. Comunque sempre della stessa famiglia. Da starci sempre a guardarlo con attenzione, ma non troppo. Soprattutto accorgersi se al nido. Se al nido passare piuttosto lontani è meglio. Perché proprio veramente può essere pervivoloso. E questo invece cosa è? Pesce coccodrillo. Pesce coccodrillo. Pesce coccodrillo che lo vediamo. Anche lui tende gli agguati. Ma addirittura lui sta fermo. Adesso ci avviciniamo un po' di più e vediamo anche le pupille. E al punto tale, guardate, la pupilla che gli hanno messo, costruito praticamente e quasi un po' i corallini li hanno fatto sopra la pupilla perché è l'unico punto dove potevano attaccarsi. E quindi eccolo qua. Perché è mimetizzato completamente. Se non si muovesse è impossibile neanche riconoscerlo. Esatto. Eccolo lì. E lui è fermo. Per noi non è pericoloso. Tranquilli. Quindi? Allora. In questo caso. Questo pesce è bellissimo. Questo è il mandarin fish. Questo è bellissimo questo pescetto qua. È difficile da riprendere con la telecamera perché se io accendo il faro non c'è niente da fare. Lui scappa via. E quindi ho messo due foto. Eccole qua. Ma questi sono pescetti che vivono in zone dove c'è tutto il corallo morto. Che carino. Hanno delle tane sotto a questi coralli e vengono fuori dal tramonto. Ma sono veramente belli. Veramente belli. Questo è un pesce foglia. Questo pesce foglia, di fatto vediamo anche come si muove tranquillamente, è lì. E anche lui è un pesce che sta statico e che cattura quello che gli passa davanti. Qui abbiamo i pesci di vetro, che ce ne sono tantissimi proprio. Sono veramente belli questi pescetti qua. Purtroppo sono il pasto di quelli più grandi. Ma ce ne sono tanti di questi qua. Il pesce violinista, non dimentichiamolo. Ah, quello in fondo. E qui passiamo adesso alle mante, che è la parte più interessante per noi. Perché la manta, per me un viaggio, quando si arriva a vedere le mante, è un viaggio che ha il massimo. Perché proprio trovare squalo balena o la manta è bellissima. Le mante, nella parte della pancia, hanno delle macchie, in questo caso questa è una manta completamente nera, ha delle macchie bianche, oppure hanno delle macchie nere, che sono la loro impronta digitale. Difatti hanno stato ricostruito i tragitti che fanno queste mante, dopo che sono state fotografate, da quello che è la loro impronta digitale nella pancia. Che dimensioni hanno? Queste non sono tra le più grandi, perché le più grandi le ho viste a Soccorro, che sono di 7 metri. Queste qui comunque siamo sui 4 metri tranquillamente, da apice a apice. Queste non sono quelle pericolose? No, 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 assolutamente, assolutamente, no, queste proprio, diciamo, hanno un po' di muco orticante nella parte sopra del mantello, ma voglio dire, non si possono più toccare, per cui non c'è nessun problema per noi. Questa qui appartiene, la manta, cosa incredibile, appartiene alla famiglia degli squali, eppure ha tutt'altra fisionomia, tutt'altro corpo. E si nutre di cosa? Di planton, piccolissime particelle, di fatti di planton, in questo caso non sta mangiando, perché vediamo che ha i faldoni davanti arrotolati. Adesso nell'immagine successiva, vediamo se è l'immagine successiva. Questa è un'altra, perché questa è bianca sotto rispetto alla precedente. Ecco qua, qui la vediamo con i faldoni aperti, in questo caso lei canalizza l'acqua dentro la bocca e trattiene tutti i piccoli frammenti che ci possono essere. e ripeto, eccole qui che passano. Qui l'acqua non è mai limpidissima dove ci sono le mante, perché loro stanno lì, o perché sono in una pulizia, in un punto dove c'è la piazzola di sosta per la pulizia dei parassiti, oppure perché nuotano, per alimentarsi, perché c'è molto plantono. E infatti l'acqua, proprio limpidissima, non è mai quando ci sono le mante. E infatti vedo che non sono immagini perfettamente nitide, perché proprio scelgono questa zona dove c'è cibo sostanzialmente, quindi planto. Esattamente. E quindi voi a che profondità siete qui? Non siamo profondi, siamo sui 12 metri, proprio poco profondi. Ma le abbiamo viste anche dalla barca che arriva fino in superficie. Eccole qui. E qui proprio le vediamo molto bene, però ripeto, dobbiamo accontentarci di quello che è la visibilità. Sono rarissime le volte che le ho trovate in acqua limpida, perché per carità anche loro magari fanno il passaggio in acqua limpida dove non mangiano, nuotano, si spostano fino a trovare un altro posto dove poter mangiare. Ecco, queste qui sono bellissime le mante, per me è una cosa veramente che mi carica. che una volta che sono sotto, cioè bisogna stare attenti, bisogna controllare di non finire l'aria, ecco, guardare bene. Ma siete sempre tutti insieme, uno vicino all'altro? Sì, sì, quello sì. Però diciamo che è un po' un punto d'orgoglio quello di chiedere l'aria al compagno, in caso di necessità la si chiede, senza dubbio, ma però insomma rimanere senza aria non è il massimo. Eh no, immagino. Sarebbe come quando uno guida la barca e va in secca. Insomma si capita. Ma non vi richiamano quando è giunto il momento, cioè non tengono conto? Sì, no, siamo noi che dobbiamo comunicare quanta aria abbiamo. Ecco, qui abbiamo finito l'immersione, ce le stiamo raccontando, qui vediamo un tramonto accelerato e qui finisce il nostro viaggio a Comodo. Quindi voi chiamate... Abbiamo determinati segnali, praticamente quando alziamo il pugno, cioè diciamo che siamo in riserva, quindi diciamo praticamente quello che è... E l'imbarcazione in questo caso non l'avete persa? No, c'è sempre la guida sotto. Quindi noi comunichiamo, quando arriviamo a 100 atmosfere, è la metà dell'aria consumata, iniziamo la seconda fase che si torna indietro, praticamente rispetto a dove siamo entrati. Si va verso il punto dove siamo partiti con l'immersione. Tutti hanno la stessa aria in genere? Io devo dire purtroppo, quando vado giù con la telecamera, consumo di più di un altro che senza telecamera, perché ho la fatica di avere la telecamera, poi ho tutti i movimenti, poi quando mi devo posizionare, devo stare attento a non creare danno al fondo in primo luogo, ma potermi appoggiare e nello stesso tempo sollevare la telecamera, sono fatiche che si fanno e si respira di più e quindi ho un consumo maggiore, però non tantissimo rispetto agli altri, maggiore praticamente sì, però sono io magari che certe volte faccio finire prima l'immersione perché ho finito, non dico che ho finito l'aria. Ah, perché tutti quanti dovete andare, ho capito. Sì, no, quando si emerge, si emerge tutti. Ecco quello sì. Dicevi prima delle correnti. Le correnti, cioè l'incrocio di due oceani, cioè il Pacifico e l'Indiano. Cosa succede? Che non abbiamo gli stessi orari di marea, per cui ci sono questi spostamenti di acqua veramente vertiginosi e creano delle correnti violentissime. L'Indonesia da questo punto di vista qui, soprattutto perché ha anche tante isole, si incanala questo flusso di corrente tra due isole e ti trasporta via. Ma è stato in Indonesia una volta che hai avuto problemi? Sono stati un po' di subacquei, un po' di treviso, tre subacquei che sono stati persi. Ah, proprio persi. Purtroppo è la cosa peggiore. Attenzione, hanno perso anche me in Indonesia. Ah, infatti mi ricordo che si erano persi. E lì è stato proprio per, diciamo, la barca con cui ci portano a fare l'immersione. Io non pensavano assolutamente. Io sono andato giù. Come sono andato giù? Ho visto che avevo una goccia d'acqua dentro la telecamera. A quel punto ho avvisato la guida. Dico, torno su. La guida avrebbe detto al mio compagno, vai su. E dico, cosa vieni su a fare? Fatti l'immersione. E sono risalito da solo. La barca che ci aveva buttati in acqua era andata sotto riva a proteggersi dal sole. Per cui quando sono emerso, io sono emerso e la barca non mi vedeva più. Mi ha preso la corrente e mi ha portato fuori. Quanto tempo sei rimasto? No, non tanto. Un'ora e mezza, due ore sono rimasto. Ah, sono lunghe. Sì, beh, l'ho avuta peggio. In Somalia l'ho avuta peggio. Ecco, ma comunque qui, però questa qui, un conto è quando capita che si è giovani un incidente così. Un altro conto, questo perché l'ultima volta che mi hanno perso è stato due anni fa, praticamente un anno prima della pandemia, proprio l'ultimo viaggio è stato. Non è in massa. Non è tanto. E mi ha segnato di più. Perché quando si va su con gli anni si capisce di più il pericolo, quello che può essere, si è molto più condizionati da questo. Maggiore consapevolezza. Sì, c'è più consapevolezza. Allora, grazie Maurizio Chiavato, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, quindi un bellissimo viaggio. Comunque speriamo che si possano riprendere per rinverdire queste immagini e che comunque i luoghi siano rimasti incontaminati. Questa è un'altra cosa molto molto importante. Grazie a questo punto. Grazie a voi, te le spettatori, di averci seguiti. Naturalmente la puntata la potete rivedere in replica nel nostro sito internet. te rivederà con calma, sono delle immagini straordinarie, bellissime, degli animali difficili da vedere, che però devono essere naturalmente tutelati e protetti, anche se vanno rispettati, perché ho visto che non sono proprio docili, docili, quando parliamo poi di questi rettili. Grazie ancora, buon proseguimento, buona serata. Grazie a tutti.